Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo ancora dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Da segnalare anche code in uscita a Firenze Scandicci, provenendo da entrambe le direzioni. Rallentamenti invece tra Firenzuola e Badia, sempre in direzione Bologna, e tra Firenze Sud e in Cisaregello verso Roma. Code per traffico intenso anche in A12 a Rosignano Barriera in direzione Rosignano. In A15, sempre per traffico intenso, 4 km di coda tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. In A11 invece rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla FIPILI, un chilometro di coda a causa di lavori tra Firenze Viadotto Indiano e la Strassigna, direzione Mare e rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.